A Palermo un'auto rubata carica di materiale esplosivo è stata parcheggiata a nottetempo davanti all'abitazione del PM Paolo Malfitano. Questo è il più eclatante della serie di avvertimenti ricevuti alla vigilia dei nuovi processi in cui il magistrato ha un ruolo di primo piano. Ricordiamo ancora gli straordinari colpi inflitti alla mafia palermitana insieme all'allora commissario capo Giovanna Guarrasi, arresti che resero il nome del PM Malfitano noto in tutto il paese. Ma passiamo ora... Giacomo, Vanina, ho visto il TG, come sta? Paolo sta bene, o almeno così pare. Hanno rinforzato la scorta? Sì, vuoi che gli dica che hai chiamato? No, meglio di no. Vanina, mio fratello non riesce a dimenticarti. Giacomo, promettimi che se dovesse succedere qualsiasi cosa non lo vorrò sapere dal TG. Te lo prometto. Grazie, ti abbraccio. Ciao. Cazzo! 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 Cazzo!